Musica Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo tutorial Oggi siamo nella terza lezione del nostro corso di programmazione Lo avevamo accantonato un secondino ma ora rieccoci qua per continuare L'ultima volta abbiamo visto delle esercitazioni in live in Visual Basic Ho combinato un po' di pasticci perché mi ero perso da tanto che non riprendevo Visual Basic Ma comunque avete visto in live bene o male qual è il ragionamento del programmatore Nel momento in cui si trova di fronte delle difficoltà e quindi come risolverle Oggi andiamo a complicare un pochettino di più il nostro discorso Ma prima di questo vi invito a condividere questo video perché altri possano seguire queste guide A lasciare un like se il video vi sembrerà utile o comunque se seguite tutta quanta la serie Ed iscrivervi per nuovi tutorial e soprattutto unitevi al canale Telegram Chioccio la vita da fondo ero official lo trovate qui Si parla di informatica e di server Minecraft come sempre Quindi unitevi che ci sono cose molto interessanti Iniziamo con la lezione di oggi Oggi parliamo dei cicli in programmazione Ebbene che cosa sono i cicli? Io leggo sempre il mio testo Come dice la parola stessa queste istruzioni ci permettono di effettuare Una lista di istruzioni Per istruzioni si intendono operazioni oppure tipo l'if eccetera come abbiamo visto Più volte quindi queste istruzioni possono essere effettuate più volte Ossia in ciclo appunto Queste volte saranno delimitate da un qualcosa che saremo noi ad impostare Quindi queste istruzioni verranno ripetute tot volte fino ad un limite impostato da noi Ci sono tre tipi di cicli Abbiamo il ciclo for, il ciclo while e il ciclo do while Partiamo dal ciclo for In cosa consiste il ciclo for? Questo ciclo esegue le istruzioni utilizzando un contatore rappresentato da una variabile integer Negli altri linguaggi di programmazione In Visual Basic invece vedremo che proprio un contatore non è una variabile Questo contatore si incrementa ad ogni giro Si interromperanno solo quando questo contatore avrà raggiunto un tot limite E' per questo che questa variabile che utilizziamo si chiama contatore Perché la sua funzione è proprio questa Ogni giro che fa si incrementa Quindi partendo da un tot si incrementa Ed arriva ad un altro tot Quando raggiunto questo tot Il programma esce dal ciclo Quindi finisce di continuare a ripetere quelle istruzioni in ciclo Ed esce dal ciclo e va avanti col programma In Visual Basic l'incremento è rappresentato dalla parola chiave next Quindi non c'è bisogno di utilizzare il contatore facendo l'istruzione per incrementarlo di uno Lo fa in automatico col next Il ciclo while invece controlla se la condizione al suo interno è vera Quindi fa la stessa cosa di un if Ossia controlla se questa informazione è vera Faccio questo Che cosa fa? Il while In caso la condizione sia vera Entra all'interno del ciclo e fa le istruzioni Dopodiché ricontrolla se la condizione è vera Se la condizione è vera rifa le istruzioni un'altra volta Quindi continua questo ciclo in loop finché la condizione è vera Nel momento in cui la condizione diventa falsa esce da questo ciclo e continua con il programma Se la condizione non diventerà mai falsa il nostro programma andrà avanti in loop in questo ciclo E capite che quello che succede non è una bella cosa perché non avendo mai una fine un ciclo non andrà mai avanti il programma e crasha Il do while invece è molto simile al while Fa praticamente la stessa identica cosa Solo che prima esegue le istruzioni una volta E poi controlla la condizione Quindi esegue quel tot di istruzioni Controlla se la condizione è vera Allora le riesegue Controlla se la condizione è vera la riesegue Controlla se la condizione è vera le riesegue Così e via L'unica differenza col while è che prima almeno una volta esegue le istruzioni Poi controlla se la condizione è vera ed esce dal ciclo solamente quando la condizione diventa falsa Uguale al while Quindi ricapitolando con il ciclo for noi andiamo ad eseguire delle istruzioni tante volte finché il nostro contatore non arriva al limite che abbiamo noi impostato Quindi impostato nel nostro programma Con il ciclo while invece il ciclo inizia solo se la condizione nel while è vera E continua a ripetere Cioè continua a fare tutti questi giri Sempre solo se la condizione è vera Finché non diventa falsa allora in quel caso esce Il while fa la stessa cosa del while Con la differenza che però prima esegue una volta le istruzioni Prima di controllare la condizione E poi se la condizione è vera rientra nel ciclo e va avanti finché questa rimane vera Nel prossimo video vedremo che cosa sono gli array Quindi si passa un pochettino sul complesso a livello di programmazione E poi faremo un'altra live in cui ci eserciteremo con questi cicli e questi array Per capire meglio il funzionamento Questa lezione è stata molto teorica Più che altro l'importante per ora è chiarire i concetti Prima di vedere bene o male un programma vero e proprio come si fa La scorsa volta abbiamo visto la calcolatrice Che è una cosa banalissima Che si fa in pochissimo tempo Anche se io mi ero perso perché non mi ricordavo che Visual Basic è proprio terra terra Quindi impariamo questi concetti Li approfondiamo in live nelle esercitazioni E quando arriveremo a Java Trasformeremo un po' tutto quello che abbiamo imparato Più che altro l'idea è questa Infatti se i concetti alla fine di questo video Cioè i cicli non vi sono totalmente chiari Aspettate almeno i prossimi due video Per capirli 100% Ma se già avete il concetto chiaro di che cosa serve il for Che cosa serve un while Che cosa serve un do while Vedete già appostissimo perché significa che possiamo andare a fare direttamente cose più complesse Detto questo io vi rinvito a lasciare un like A condividere il video se il tutorial vi è stato utile Iscrivetevi sempre per nuovi tutorial Noi ci vediamo nel prossimo video E grazie per la visione Grazie per la visione